Ciao, redazione di Uncomation a gelato. Ciao, io sono Lorenzo e io Guido. Siamo complementari. Siamo insipiosi. Questa invece che in realtà deve stare facendo un casino, è la nostra collaboratrice Virginia. Bella ragazza, ma viene sempre nei momenti minopoltivi. Siamo i fondatori e gli ideatori di Cioccolate e Gelato Biometi, una catena famosissima, sicuramente conosciuti a Padua di Gita. Nen Guido e io ne speriamo nulla prima di cominciare. Io vengo da una cultura montadina, mio padre era un agricoltore e c'è la famiglia di Guido. Noi siamo al Pisani da almeno 400 anni. Perché sapete, ragazzi, qui dalle nostre parti di Veneto. Mi piace fare, svegliare, svegliare. Un bel problema. Se proponiamo un gelato, ovviamente mi piace la città intima e mi piace a me perché l'abbiamo studiato per bene. Per questo siamo Arbonbation. Grazie a tutti.